Il momento del decollo e poi lo spettacolo, le colonne, le arcate a 40 metri di altezza, i colori delle navate ben visibili da vicino e le diverse prospettive mai viste così, un avvicinamento all'abside e uno sguardo sulle cappelle laterali, dopo un volo sopra le panche che ospitano i fedeli durante le celebrazioni. Questo inedito sguardo all'interno della Basilica di San Petronio è opera di un drone. A farlo decollare ha pensato la società Agnus Drone di Cento, chiamata dall'associazione succede solo a Bologna, che così ha voluto vedere da vicino come sta la grande basilica. Inizialmente l'idea di utilizzare un drone era per andare a vedere tutte quelle parti in alto, che quindi avrebbero necessitato di ponteggi piuttosto che interventi molto più lunghi. Con il drone tutti questi tempi vengono ovviamente risparmiati e tagliati e ovviamente una volta che si individua la criticità si può intervenire nel metodo tradizionale. Alcune vetrate e il tetto, qui ci saranno i primi interventi. Come appunto si può vedere anche all'esterno della basilica, tuttora si sta andando avanti a restaurare e a intervenire sulle esigenze, e ovviamente inizialmente sulle esigenze più necessarie, gli interventi più necessari. Uno di questi è sicuramente l'abside di Piazza Galvani e il coperto, quindi il tetto, che ci ha permesso tra l'altro questo intervento di creare la terrazza panoramica che riprenderà a pieno regime con tutte le attività a partire da aprile. L'associazione ha promosso il progetto Io sostengo San Petronio, una raccolta fondi che ha raggiunto i 206 mila euro e che si chiude proprio oggi. Sì esatto, oggi è l'ultimo giorno di crowdfunding dell'associazione Succede sulla Bologna per la basilica di San Petronio. Noi siamo molto soddisfatti e ovviamente non è che interrompendo oggi il crowdfunding lasceremo la basilica così dall'oggi al domani, ma aiuteremo, quindi passeremo questo nostro progetto direttamente alla basilica che lo porterà avanti con un micro crowdfunding per andare a coprire man mano tutte le spese degli altri restauri.